ciao ciao allora finalmente siamo riusciti a comprare questo oggetto bellissimo che è di marca abbiamo preso anche la garanzia 65 euro tutto e fa aspira l'acqua aspira la cenere e fa da aspirapolvere e crea anche i soldi se se no no e per due anni c'è la garanzia abbiamo fatto il prolungamento della garanzia 65 euro tutto abbiamo fatto un affare costava 128 120 euro 65 euro ovviamente di marca ma c'è della marca si qua ci sono gli attrezzi quasi questo prolungamento che non serve perché aspira praticamente senza niente ovviamente ci sono le rotelle da montare le rotelle così lo trascino no 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 a te le comando agire da solo tutto lo solo fa così a e rosetta e mamma è arrivato il mio ferro con la piastra in ceramica dopo che è quello lì che vedete ma devo ancora aprirlo ancora dopo non diamo la foto ora andiamo a mangiare ciao ciao